ciao ragazzi avete presente quando noi italiani pensiamo ai tedeschi come delle persone ordinate e rispettose delle regole beh questo video è qui proprio per farvi cambiare idea perché appunto vi parlerò di sette fatti strani sulla germania e anche sui tedeschi ovviamente dopo gli irlandesi i tedeschi sono i più grandi consumatori di birra al mondo insomma in germania scorrono fiumi di birra tutto l'anno e non soltanto durante l'oktoberfest parlando sempre di birra la birra è riconosciuta ufficialmente come un cibo della baviera insomma un vero e proprio piatto tipico e pensate un po che nel 2009 la mattel ha creato una barbie a immagine e somiglianza della cancelliera angela merkel avete presente gli orsetti gommosi che qui in germania si chiamano gommi bear beh furono inventati nel 1922 proprio in germania da ans riegel che è il fondatore della arabo i tedeschi rispondono al telefono dicendo il loro cognome il 70 per cento delle autostrade tedesche non ha limiti di velocità infatti sono state costruite in modo tale da poter per essere fruibili e sicure senza preoccuparsi troppo appunto della velocità a cui si va sono più fan club di calcio in germania che in qualsiasi altro paese il calcio infatti è senza dubbio lo sport più seguito in germania e se non ci credete andate a vedere il video in cui vi mostro cosa succede durante i mondiali appunto qui in germania che vi lascio linkato qua sopra bene ragazzi io spero che questo video vi sia interessato ho cercato di portarvi un pochino in giro nei dintorni di munsingen mentre lo facevo appunto e mentre vi elencavo i sette fatti strani sulla germania e sui tedeschi se vi è interessato questo video lasciate un bel like e magari condividetelo con i vostri amici che potrebbero trovarlo interessante anche loro se avete qualche altro fatto strano sulla germania non esitate a lasciarlo in un commento qui sotto in maniera tale da farci divertire e da condividerlo appunto con tutti sempre qui sotto ma in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta in questa mia avventura se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi in questa serie di video noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video have a nice life grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.